E' questo gesto della donazione che potrebbe anche sembrare come un dono che è arrivato quando c'era bisogno di sostegno. Ecco per l'appunto il dono per l'uomo, quindi di realizzare comunque qualcosa che magari piace anche ai bambini, soprattutto quando vanno a vedere un film. Sta prendendo forma e colore in questi giorni quello che è stato definito lo spettacolo più bello, non un film ma l'ultimo atto della campagna di crowdfunding non ci resta che piangere, iniziata il 20 ottobre 2022 che ha permesso all'Eden, l'ultima sala cinematografica del centro storico di Arezzo, di continuare la propria programmazione. Per ringraziare la cittadinanza che ha aiutato il Cinema Eden a risorgere abbiamo scelto insieme ai ragazzi dell'Ice Artistico di fare prima un concorso di bozzetti per un murales che si sta realizzando in questi giorni. E il vincitore appunto ha avuto il premio di essere l'immagine della facciata del Cinema Eden e quindi i ragazzi stessi sono proprio operativi per realizzare con i colori, con il disegno, con le proporzioni, insomma con tutta la loro professionalità questo murales. Gli studenti del Liceo Artistico di Arezzo prima hanno disegnato i bozzetti, poi una volta scelto il vincitore, pennelli alla mano, stanno realizzando il murale. È uno stage che dura tre settimane, quindi ha regole e orario di cantiere e sono un gruppo che ha aderito a questo stage perché comunque la scelta è personale e sono una decina di ragazzi che stanno lavorando. È una bella iniziativa perché restituisce alla città il valore aggiunto dell'arte e nello stesso tempo è un modo per dialogare con la città. Il cantiere terminerà il prossimo 22 giugno mentre i bozzetti sono esposti nell'atrio del cinema pronto a riaprire tra pochi giorni le sue porte. Comincia l'estate quindi usciremo all'Arena Eden con le proiezioni e con gli spettacoli dal vivo e sarà quello il momento di inaugurare questo murales e sarà sicuramente un momento bello sia per noi che per la città.